Prenderemo tre gelati del Burger King, li paragoniamo a tre gelati del Mac e li ripariamo a quelli del Mac, cerchiamo di prendere quelli un po' più simili, tipo per esempio l'Oreo, questi tre, basta Ok, quindi abbiamo preso l'ordinino, abbiamo preso tutto quello che dobbiamo prendere ora ce lo portiamo a casa e facciamo quello che dobbiamo fare Mac Caffè, Mac Drive, siamo aperti tutta la notte Ciao Un sunday al caramello, un sunday Oreo Flurry Oreo E un sunday cioccolato, era l'altro, sì, è un sunday cioccolato Bastava pieno? Sì, grazie Grazie a te Allora ragazzi, ora abbiamo preso finalmente i tre gelati da comparare quindi speriamo di farli arrivare a casa sani e salvi anche se suppongo che quelli del Burger King già sono belli che belli che quegliati, quindi ci berremo i gelati del Burger King e li paragoneremo ai gelati del Mac che forse ci mangeremo Come avete visto abbiamo preso i gelati, dobbiamo fare questo benedettissimo confronto tra i gelati del Mac e i gelati del Burger King, ok? Abbiamo cercato di prendere ovviamente gli stessi sapori quindi abbiamo preso un Ah, Sweet King Oreo Sweet King Oreo Sweet King Oreo E quindi la controparte, il McFlurry Oreo del McDonald's Un mini sunday al cioccolato Che può essere questo Sì E infine il sunday al caramello Quindi adesso ci armiamo di Bucchiaino Bucchiaino E quindi io direi di partire appunto dal più lontano Quindi caramello Partiamo dagli esterni e andiamo verso l'interno Che mi piace Da quale partiamo? Che senso? Lui sta facendo il video con noi Ce la facciamo prima che si sciolgono e preferite Vai, scaramello Per filante Andiamo, numero 3 Vabbè, adesso si dà, dai Beh, classico Buono, caramello, necco Fior di latte E' buono Un caramello è troppo buono Andiamo avanti Ma perché così, rapido? Prima valutazione Partiamo dal caramello Allora Ivanone, dimmi Cosa ne pensi? Tra un confronto? Un confronto Qua è molto più cremoso E il caramello è molto più saldo Cioè non è liquido Questa è crema È crema gelato Questa è tipo Sembra granita quasi Cioè è veramente una consistenza Cioè si vede Totalmente diversa Più lattoso Più liquido Allora io non amo il topping al cioccolato A prescindere Non lo prendo da Questa è 15 anni Non lo prendo Il topping questo più buono Magari puoi rifare sul topping Anzi sul topping Sai che forse è più buono questo topping Lo sai che Lo sai che Lo sai che ne ho detto una cazzata Lo sai ne ho detto una cazzata Allora Il topping è più buono questo qua del King È un pochettino più presente no? Anche se comunque Consigliate che ne ha messo molto di meno E si sente molto di più È più forte infatti Sì Come è come gusto Bravo Come dicevi tu Sembra più fondente rispetto Questo sembra troppo dolciasse Non lo so Comunque a questione di gusti Personale Sì Certo Vapò io tra Tra i due io stavolta Io pure Faccio passare il King Sì Andiamo avanti Qua parto Lo mangio perché è giallo con uno scoccio È oreo perché si vede C'è io oreo Sì vabbè no no Io oreo è giocato Vabbè Non commento Andiamo avanti L'oreo è un biscotto favoloso Sì qua c'è il topping al cioccolato Più l'oreo Ah Sì Non lo sapevi Ah sì Se a noi infatti non c'è questo Guarda che si aveva il gelato e il mercolio Non c'è questo Allora io voglio dare un'opinione un po' più dettagliata Allora Ma che cazzo è sta cosa che non sa di oreo frate Ma che cazzo fanno il Burger King Allora È mischiato Onestamente Se tu mi dai un gelato oreo Oreo col topping Non esiste L'oreo quando mangi il biscotto oreo è bianco e nero Il topping non c'è Primo Secondo È il topping che sa di chimico Cioè perché tu stai dicendo che alla fine ti stai mangiando un mini sunday al cioccolato Con l'aggiunta di oreo Se voglio lo sunday con il cioccolato Non c'è il cioccolato Cioè qua lo mangi il gelato No questo è un altro livello Allora ragazzi a parte gli scherzi Livello di creme Non di topping Di crema in sé per sé Di gelato in sé per sé McDonald è un altro livello Cioè questo è proprio gelato Questo è granito Per quanto riguarda i topping Burger King si diverte Si difende molto Si diverte Aspetta no Non i topping Il topping al cioccolato Sì per quello al cioccolato vince il Burger King Per quello al caramello No per me non Non esiste paragoni con quello del McFeed Quindi per me sono Vince 2 a 1 No vince 2 a 1 No Ecco ci sono tre pareri discordanti Quindi ragazzi Scrivete voi nei commenti Secondo voi Quali sono i gelati più buoni Delle due catene E quale delle due catene Ha il gelato più buono Anzi ragazzi Di essere arrivati fino a fine video Se siete d'accordo con noi Scrivetelo nei commenti Se non siete d'accordo con noi Scrivetelo nei commenti Ci vediamo al prossimo Food Video Food Eccetera eccetera Fate buoni Ciao 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 Ciao